Buonasera a tutti, ben ritrovati al teatro Liric di Assisi. È con vero piacere che questa sera vi presento un nuovo viaggio. Questa è la quarta edizione del grande evento nato dalla collaborazione virtuosa tra diverse associazioni e realtà del territorio e dalla creatività e sensibilità delle persone che ne fanno parte. È uno spettacolo, come avrete intuito, che associa la musica alla solidarietà e proprio per questo, come faccio ormai ogni anno, chi ci ha seguito anche nelle precedenti edizioni lo sa, io comincio sempre con una parola molto semplice. Questa parola è grazie ed è rivolta a tutti voi. Grazie per essere qui e grazie perché già con la vostra presenza, avendo acquistato il biglietto per questa serata, avete contribuito a farci raggiungere lo scopo dello spettacolo che ogni anno cambia e quest'anno è quello di raccogliere fondi per dare un contributo all'ospedale di Assisi. Grazie a tutti. 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 a tutti.